Steph, ho una piccolissima domanda da farti Ok, dimmi Perché c'è un carro armato sopra il labirinto? Per la sfida di oggi Eh, appunto, ma perché sta sopra il labirinto? Per la sfida di oggi E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph, e questo è GKM GTA V E finalmente il grande giorno è arrivato La sfida più epica di sempre sta per compiersi Io contro Stref con 3 milioni e mezzo in palio Esattamente Allora, la sfida di oggi è davvero pazza Non so bene neanche io come quando l'ho pensata Secondo me ha avuto un incubo di notte e mi è venuta in mente sta roba Ma assolutamente un incubo Perché se no non so come puoi aver pensato una cosa così malsana Però ci giochiamo i 3 milioni e mezzo Che si potranno spendere solo in veicoli speciali Anzi, in veicolo speciale più quello che avanza Perché non so quanto avanzerà quando sceglieremo Esatto, esatto E come funziona la sfida? Allora, abbiamo il labirinto Abbiamo un carro armato sopra il labirinto Esatto Una volta a testa si va sopra il carro armato E l'altro dovrà muoversi nel labirinto Senza essere ucciso Da quello che sta sul carro armato È impossibile Lo so Non so se è più impossibile Aspetta Uccidere la persona che gira nel labirinto Ok O riuscire a colpirla col carro armato Perché secondo me è difficilissimo Cioè già è lì sopra in bilico Però In più ti puoi nascondere tutto Non hai radar È buio Ci sono tanti muri Insomma Secondo me due minuti sopravvivendo Correndo intorno Si possono fare Chi vuole partire sul carro armato? Vado io? Va bene Vediamo cosa succede Ok ok Da qui dovrei riuscire a salire Sì ci devi arrivare È già una sfida arrivare al carro armato Oh mamma mia aspetta Vai a destra Tocca fare un solo salto Ok da lì No 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 Guardami Questo devo No No cavolo ma scende Dai ogni posto che fa scende Di sotto Guarda me Tu vieni qua Vedi Vedi Su ma Fere ma qua Se invece ne aspettare a tutti Sono qui da due ore È facilissimo Venire Su dai Veloce Per favore Ok non cadere Ce l'ho fatta Adesso ti avvicini qui Togliti però Sali sul carro armato di così Proprio con lo spazio E poi premi F Allora se cado qua Io non gioco più Sali con spazio Mi prendo i 3 milioni e mezzo E scappo Premi F 3 2 1 Sono partiti i due minuti Ovviamente non si può restare fermi Si può restare fermi giusto Per massimo Una decina di secondi Giusto per Diciamo Avere la possibilità di fare qualche fintina Allora io so esattamente dove sei Esatto E ti vedo pure qui sotto Aiuto Ti ho già ucciso Perché mi sei passato sotto Quindi ti ho visto Allora E io da qui Vedevo già dove Dove saresti sbucato Perché avevi solo una via Ovviamente Ok E quindi ero già pronto a mirare Come ti ho visto sbucare Ho sparato Vabbè cambio Nel caso c'è lo spareggio Che è ancora più bello Dai Secondo me è forse un po' troppo semplice Te lo dico Beh infatti la sfida è sopravvivere Non è ammazzare Ah ok No io pensavo mazzare Dicevo dai Non capisci me Allora O sono io terribile a spiegare le cose O sei tu che non capisci me nulla Sei tu terribile Secondo me entrambe le cose Io sono scarsa a spiegare E tu scarsa a capire Ho capito Tra te che non sai spiegare bene Io che poi non ti ascolto Perché c'è Sì Se a me metti mano un carri armato Io penso solo a distruggere Non me ne frega nulla di quello che dici Ok E quindi probabilmente non ci capiamo Adesso ho gravi dilemmi Bug Ma ci sono Ma si vede tutto però Ma hai detto che si vede tutto Come ci fai È un bel problema È un bel problema Allora ti do Dieci secondi per nasconderti Poi mi fai Ah mi devo nascondere Eh sì così non so da dove parti Capito Ok 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 Beh là c'è per favore Sono un po' scomodo a stare così Sai 3 2 1 Avviato il timer Due minuti partiti Ok Allora dov'è Dov'è Ma vedi È impossibile È la sfida più terribile di sempre Doveva essere epica questa Allora Allora stiamo calmi Non funziona Cavolo però come idea era bellissima Allora l'idea è figa La metterlo Però Non funziona bene Devi sopravvivere due minuti Ne abbiamo sopravvissuto Cinque secondi a te Esatto Uno schifo Allora dobbiamo pensare a qualcos'altro Secondo me Devi stare totalmente attaccata alla parete Che porta sul carro armato In che senso Aspetta quella che porta sul carro armato Allora tipo guarda il mio Tipo qua Ok Attaccata a questa parete Eh quello che ho provato a fare Però Quando vedi che sta finendo la parete Inizia a fare le fintine per quando andare Ah beh Capito Eh beh in effetti non c'è bisogno di correre Puoi anche camminare Sì In effetti Sì dai proviamo Ok Ok Riprovo io Sì allora A zero Mi copro gli occhi Nasconditi un pochettino Così almeno il vantaggio Che non so dove sei Almeno tre secondi resisti E dimmi quando sei pronta Che così avvio Vai 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 Ok avviato Ok Allora Stavolta non la vedo Sto cercando di sbirciare Di capire dove sei Non ti vedo eh Eh vedi che sta funzionando Spera Eccoti Ora so dove sei Cavolo Cavolo Aspetta 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 Però io sto camminando eh Non sto rimanendo ferma Ok Quindi sto facendo Eh ma sei passile Adesso ti ammazzo Secondo me Dai So dove sei Ok E tu te che sei nei tempismo Credo Ok Se cambi strade In effetti mi freghi Non lo so Allora Ok Dove sei Sto continuamente cambiando le strade Aspetta aspetta Sei per forza in questa zona Però non capisco il punto esatto No no funziona come hai detto Ok Un pochettino furbo Non dovevo spiegarglielo forse Esatto forse non lo dovevi spiegare Allora proviamo ad andare qua Stai ma mi stai trollando E sei immobile secondo me No no mi sto muovendo Ti giuro che non ti vedo Probabilmente si sentono anche i tasti della mia tastiera Ma io mi sto muovendo Uh eccoti Eh Dannazione No Però teoricamente sei nata su un vicolo cieco Io rifaccio così Oh Ce l'ho fatto Devi fare tutto No Ti ho preso Sì che non so come hai fatto Non so come hai fatto Un minuto e venti Un minuto e venti No funziona di più Meglio dei cinque secondi funziona di più E direi Vedi Che l'avevamo pensata bene Era soltanto che ci stavamo riscaldando Eh no sì ovvio Il riscaldamento per entrambi Adesso siamo carichi e pronti A vincere E a concludere la sfida Allora quindi hai fatto un minuto e venti Vediamo se Se Allora facciamo ancora un po' di tentativi Se nessuno dei due fa più di un e venti Vinci per un e venti Ok è tempo per nascondersi Tocca a Steph Dai muoviti Ho un po' di ansia Perché sapendo che tu hai fatto un punteggio così bello No guarda avevo un'ansia assurda anch'io Perché ho detto se non funziona Ma cioè ti ho visto Davvero? Eh sì ti sei messo qui sotto Con la coda dell'occhio Se io mi metto così C'è un motivo dannazione Dai vai Chiuditi gli occhi Oh sto buttando giù tutto Chiuditi Taffati gli occhi Eh vabbè è uguale E sai perché Perché io adesso con gli occhiali Ho la vista super sonica Eh sì sì certo Vedo 8 chilometri di distanza È arrivata Superman Posso andare? Supergirl al massimo Vai Vado Sì Opla Ok Ci sei? Sì sì Allora vediamo da che parte sei No non so dove sei Non so dove sei al momento Ok Allora di qua non posso andare Quindi devo attaccarmi qua Ti ho ucciso Ma come hai fatto tu? Ma è impossibile No ti ho visto E beh perché stavi urlando E ho detto Se sto urlando così Vuol dire che è vicino In zona del carro armato Mi sono girato a destra a sinistra A destra a sinistra Ho visto un muovere Ho sparato Ci riprovo io Perché ho fallito Troppo miseramente Ti vedo che sei qui Appiccicato Non è vero Ti vedo Ti vedo No non sono qua Guarda che mi faccio autoesplodere Più di pur di quanto esplodere È un clone È un clone Sei tu Sei imbarazzante Allora Vai vai te lo concedo Un altro tentativo Mi sembra giusto Copriti gli occhi Allora Mi serve un bel posto Ok sei pronta? Fatto? Però è giorno Dannazione Eh sì Ora sarò ancora più Fallisco miseramente No non ci possiamo fare niente Non abbiamo il controllo Del giorno e della notte Eh lo so Lo vorrei però Lo vorrei Eh sì pure io a voglia Anche nella realtà Però anche su GTA Entrambe Sì sarebbe sempre notte Da qua È pericolosino Pericolosino Allora facciamo che torno così Sì posso vedere Sì 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 Mi stavo un po' addormentata Avevo Ero già partito io Ti ho già visto però Davvero? Sì sei nascosto lì dietro Però al momento non ti posso prendere Quindi vediamo da dove sbucci E allora vedi Che va bene Va benissimo Sì sì Allora se corro lì Mi massacri malamente Ok se corro lì Mi massacri malamente Quindi faccio così Dove sei? Non ti vedo Poi così Uh 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 Ho rischiato tantissimo Eh sì Ok a questo punto Che spari Ma sei pazza? Ti vedo Sto dove sei Ah sì? Sì perché sbucavi Tu eri convinto di essere nascosto Ma vedevo il tuo braccino Ok Ok allora devo rischiare Ma sei in una bella zona Ci sono un po' di vicoli ciechi Te lo dico È il davvero Ci sto sbattendo da due ore cara Non sei in una bella zona L'ho già capito Dove stai andando? Ero fuori dal labirinto Ti ho visto Ti ho visto ma da qui non ti potevo prendere Perché ho le altre parti del labirinto Quindi non ti vedo più Che rischio? Questo non è un vicolo cieco Giusto? Oh mamma mia Ma sei pazza Stai calma Vieni qua Devi stare calmissima Aiuto 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 Però sei lì Uh Ok Ebbè è ovvio Si è durato un sacco di tempo Quanto? Due minuti e tredici Ottimo Ottimo Allora Voglio escludere tutte le parti in cui ero fuori dal labirinto Perché è proprio fuori portata dal cararmato Dai E direi 15-20 secondi Quindi sì Due minuti toni Eh esatto Quindi adesso hai tu i due tentativi che ti aspettavano per riuscire a fare due minuti anche tu Ok E nel caso c'è il super spareggio Vai Ok Avviato Allora Sta diventando sempre più difficile Perché ormai secondo me qualsiasi parte del labirinto è tipo aperta Quindi mi viene Ormai è proprio la fobia del missile di Steph Sì Sì Esatto E quando ti colpisce così duramente è normale Credo di aver visto la tua ombra per un quarto di secondo Ma non puoi seguire la mia ombra Eh sì Allora Eh sì Facciamo così Eh sì Eh sì Ora so dove sei Sappi che so dove sei Quindi inizia il vero gioco Allora Ho di nuovo una stellina di pulizia Quindi cerchiamo di sbrigarci Ok Di fare una cosa abbastanza veloce no? Potrebbe arrivare gente cattiva Allora renditi Dammi la vittoria e vattene Non capisco dove sei E sei poco simpatica comunque No sono tanto simpatica Allora Sei vicina Uuuu Dannazione Così? No Ok Però so di nuovo la zona Quanto meno Quanto siamo? Quanto siamo? Un minuto e venti No devi smetterla eh Ok mi sto spostata Fatti ammazzare immediatamente Così non sei sicura Vieni qua che ti ammazzo No non so neanche dove sei Gara Dire la verità aspetta Boom Paura eh Uh Uh mi hai vista Nooo È riuscita fuori malamente Ok mi sono scosta da un'altra parte Ho trovato un bel punto eh Eh l'ho notato Un punto abbastanza bello Dai 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 Oh No mi hai preso di esplosione Ma non è già Quanto ho fatto? Uno e cinquantatré Eh vabbè ma dai c'ero i due minuti e uno e cinquantatré però Secondo me se contiamo il fatto di quando io ero fuori dalla zona valida No ma dai tu secondo me hai fatto due minuti giusti io sono rimasta tipo due secondi fuori perché Secondo Cioè nel momento in cui mi sto resa conto che ero fuori Io ti concedo da spareggio Ok dai Ok Solo perché è divertente Solo perché è divertente Solo perché è divertente Esatto però lì chi vince vince te lo dico Eh certo certo Allora tu stai sul carro armato Ok Ok io sto a terra E che dobbiamo fare? Devo riuscire ad ammazzarti Con le bombe? Sì Oh mamma Ma quali le granate con le adesive tutto? Posso usare tutto Ok Posso usare tutto Ah difficile però Uno contro uno Chi muore perde Muore 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 Sei pronta? Sì vai 3 2 1 Via Allora Tu non sai dove sono? No minimamente non ho guardato Opla Sei lì Ti ho preso? Come ho fatto? Non ero neanche sicura che fossi tu Ho visto qualcosa Con la tela dell'occhio E ho persino sparato No dai aspetta Però voglio fare un altro Anche se ho vinto Cioè ormai è chiaro che io Ovviamente ho vinto E mi comprerò un veicolo Fighissimo Però la riproviamo Voglio un po' più di emozioni Ci stai? Non è giusto Ho visto un'ombra Un'ombra Quindi ho attirato Pensavo di farcelo Nel muro No ci riproviamo però dai Voglio darti un altro tentativo Giusto per avere un po' più di emozioni Mi sembra giusto Ma ti faccio esplodere la faccia Vediamo che emozioni Proverai quando esplodi Perché ho capito Sai cos'è? No vai Via Siamo partiti Non ti ascolto Via Bomba adesiva Fuoco Ma sta arrivando da lì Quindi se ti prendo là Più o meno Sei in quella zona È difficilissimo Eh sì No sono stato troppo presuntuoso Non posso battere un carro armato È diffi Ma come? Come posso? Allora ho visto arrivare la bomba E hai sparato in quel punto Ho sparato in quel punto Perché praticamente anche se ti ristorto Quando hai ucciso me Ho capito che ti prende l'esplosione Quindi ho cercato Ho cercato anche prima di mirare la zona Dove ho visto l'ombra E ti ho preso Fallo vedere quello che voglio prendere Fallo vedere Mi sembra giusto Allora prima di tutto Costa il doppio Quindi già solo perché Costa il doppio è più figo Vabbè ma 3 milioni e mezzo Mi devo pure sfruttare Altrimenti Ma guarda che ti avanzano Un sacco di soldi Eh vabbè magari mi compro Perché vestito nuovo Da un milione No Li usi bene sti soldi Quanto costa di preciso? Ti compri la versione strafiga Dato che ci siamo E ti costerà 2 milioni e mezzo Ok Quindi ti avanza un milione Ma siccome con 3 milioni e mezzo Dovresti avere anche il bonus Ok E il bonus del 30% Di 3 milioni e mezzo Magari ti faccio un regalino E' tipo un milione No no Puoi comprare il Cargo Bob Sono quasi sicuro Che ti esce il Cargo Bob Ma sei sicuro? Quindi credo Uh però il Cargo Bob è una figata Io credo che riusciremo A comprare entrambi Perché te l'ho detto E' 3 milioni e mezzo Ma danno sempre i bonus Quando compriamo le carciarche Certo E il 30% E' un milione E se tu somi L'un milione che avanza E il milione di bonus Sono 2 milioni E il Cargo Bob costa 1,8 No sarebbe una figata Soprattutto perché quello è super utile Così ogni volta non ci tocca Esatto Non ci tocca andare all'aeroporto Io ve lo dico Il prossimo video Sarà l'online Dove compriamo E ci divertiamo Tantissimo con questo Il video dopo Sarà un si può fare Dedicato a questo Il video dopo Se la pensate E la trovate Una challenge Dedicato a questo video Voglio dire una cosa Praticamente se riesco a prendere Il Cargo Bob Riprovi a prendermi con quello E vediamo cosa riusciamo A combinare in volo Nell'online Non so se possa sparare O qualcosa Perché sinceramente Non so bene No aspetta E se col Cargo Bob Ti prendo col furgone E tu sbalzi le macchine Se andiamo orlando a terra Esatto Proviamo a fare cose così Proviamo a creare Un'altra arma letale Su GTA Online Ok Non vedo l'ora Non vedo l'ora Perfetto Comunque ci fermiamo così Per questo video Speriamo che vi sia piaciuta La sfida E ci siamo impegnati tantissimo Alla fine L'ha vinta Ferinichi Dai Una volta ogni tanto ci sta Anche per me E giusto così ma sarò arrabbiatissimo Perché mi sarei comprato Carri armato era giusto Sì ma mi sarei comprato Boxville Scusami Io adoro quello C'è proprio la cosa Quello che mi devo comprare La cosa più tamara No io volevo Boxville Avremmo avuto il camperino Arrugginito E invece ci devo rinunciare Quindi ci fermiamo così Speriamo che il video vi sia piaciuto Iniziate già a proporre Cose da provare E sui idee interessanti Che si potrebbero fare Col veicolo che comprerà Ferinichi E ci vediamo domani E non ci vediamo domani Perché ci vediamo dopo Perché oggi escono due video Yeah Spera che ci riesci così Se ci lasciateci un like E se la prima volta Che avete visto il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao